Ciao mondo, mi chiamo Aladino e sono un nerd. Capisci di essere un nerd quando ti deprimi se non riesci a capire una vignetta di XKCD? Capisci di essere un nerd quando prendere il treno al binario 2 non ti sembra molto binario? Capisci di essere un nerd quando prima di sorridere giri la testa di 90 gradi? Capisci di essere un nerd quando cogli nei griffin citazioni a film che non hai mai visto? Capisci di essere un nerd quando conti la tua età in esadecimale solo per poter essere un 0x teenager fino a 31 anni? Capisci di essere un nerd quando la cosa che ti fa sentire più simile a Dio è dare il comando Emerge-U-Word Capisci di essere un nerd quando balli bot e nalla Capisci di essere un nerd quando la prima cosa che fai lunedì mattina è leggere storie della stramacchina di Davide Bianchi? E preghi di non riconoscerti nel CL di turno? Capisci di essere un nerd quando pensi che in fondo in fondo una derivata è molto simile a un orgasmo Perché entrambi sono il limite di un rapporto incrementale Capisci di essere un nerd quando a Milano arrivi in metro a Centrale FS e pensi Non ho mai sentito parlare di questo file system Capisci di essere un nerd quando vuoi imparare a suonare una bobina Tesla Ma solo dopo averla costruita con le tue mani Capisci di essere un nerd quando ti esalti per aver capito in mezzo secondo La citazione su Reginald Barclay nel film dell'E-Team Capisci di essere un nerd quando non trovi nulla di strano se qualcuno scrive le ordinazioni della pizza In Pearl Capisci di essere un nerd quando una volta seduto per mangiare le pizze Ti accorgi che mancano delle posate e ti senti come un filosofo Capisci di essere un nerd quando confrontando la versione cinematografica E quella a fumetti di Thor ti riferisci a quest'ultima come alla realtà Capisci di essere un nerd quando sai che tutto questo è già successo E succederà di nuovo Capisci di essere un nerd quando sai che tutto questo è sempre come alla quattro Grazie a tutti